ciao a tutti io sono ikudo questa è la biblioteca di alessandria e questa non è l'ucronia ma penso che l'aveste già capito vero sì perché siete bravissimi immagino che molti di voi si siano accorti che nelle ultime sue settimane il canale è stato un pochettino altalenante qualcuno mi ha scritto in privato qualcosa ho già scritto sul gruppo telegram ma penso che molti di voi si siano accorti che due settimane fa la settimana scorsa il canale abbia visto una programmazione che si è sempre più spostata verso il tardi dall'originale mezzogiorno le pillole hanno iniziato a uscire prima alle due le tre poi qualcuna forse è uscita addirittura alle cinque e questa settimana due pillole sono già saltate e con oggi ve lo dico già senza vergogna salta la terza perché beh perché purtroppo come penso possiate immaginare in questo periodo il tempo sta iniziando a scarseggiare in maniera molto importante non il tempo da dedicare alle pillole perché per me il tempo che dedico alle pillole è tempo libero è tempo in cui mi diverto perché per me preparare queste cose è assolutamente un divertimento no materialmente sta proprio iniziando a mancare il tempo libero sto lavorando tantissime ore purtroppo nelle prossime settimane aumenteranno ancora e il risultato è che il tempo per queste pillole è proprio molto 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 calato mi dispiace però mi sono reso conto di una cosa il rischio in queste due settimane a voler mantenere questo ritmo era che ad esserne inficiato a venirne inficiato fosse inficiata fosse la qualità dei video stessi ora forse qualcuno l'ha anche un po' notato io qualche giorno fa nel video dedicato all'acquisto dell'alaska ho ricevuto un commento particolare in questi anni ho ricevuto critiche di tutti i tipi tra chi criticava la mia pronuncia chi criticava il mio essere asservito ai poteri forti cosa cui ho sempre risposto spero con tanta ironia perché uno dei grandi divertimenti ho ricevuto critiche sulla fattura dei dei video sul fatto che magari facessi degli errori assolutamente sono tutte critiche costruttive che mi sono sempre piaciute e che mi hanno sempre spinto a cercare di migliorare in certi aspetti ma sotto quel video ho ricevuto una critica che sento essere molto vera il fatto che pur essendo un video comunque credo piacevole credo che vi sia piaciuto e che comunque dava molte informazioni era un video un pochettino limitato in cui mi limitavo a raccontare la lezioncina raccontare gli avvenimenti saltando un po' di qua di là mettendo tante cose insieme senza però approfondirne nessuna senza quel piccolo guizzo quella piccola curiosità magari scovata leggendo che potesse dare qualcosa in più al video e devo dire è una cosa che non solo ho sentito molto vera in quel commento ma che credo sia sia reale e questo mi spiace perché in queste pillole negli anni ho sempre messo veramente a parte il tempo tanta voglia di fare qualcosina in più e trovarmi nel rischio di fare invece qualcosina in meno solo per far uscire un video è un qualcosa che non in cui non vorrei mai trovarmi ci e quindi arrivo a questo video per dirvi la verità e cioè che nelle prossime settimane la scansione del canale sarà un gigantesco punto interrogativo perché ho intenzione di continuare a fare pillole quando il tempo me lo permetterà cercherò magari di fare delle pillole un pochettino più piccole su argomenti più limitati quindi purtroppo chi mi sta chiedendo pillole su argomenti molto grossi come la guerra come la guerra sovietico afghana che tra l'altro una pillola che da tempo vorrei fare girare magari non una sola ma una serie in questo periodo rimarrà un pochettino deluso perché ripeto farò delle pillole ma saranno su argomenti molto più specifici limitati oppure su argomenti in cui non sarò io a scrivere la pillola io la girerò ci metterò sempre mio ma le informazioni mi verranno date da altri purtroppo a patirne sarà anche la scansione perché non riuscirò a mantenere la scansione dal lunedì al venerdì con clash of generali sabato perché lo so già che non avrò minimamente il tempo per poterlo fare inutile che vi racconti ah ma tra una settimana troverò tutto il tempo no non so quando questo tempo tornerà come non sappiamo quando questa crisi finirà e quindi quello che vi propongo è questo io cercherò di continuare a metterci del mio non vi chiederò scusa se salterò una pillola perché purtroppo ve lo dico già adesso succederà cercherò di continuare però a far uscire delle pillole di qualità e a metterci sempre qualcosina in più non so quando queste pillole usciranno forse ne usciranno tra la settimana forse due forse ci sarà la settimana che riuscirò a farne uscire cinque potranno uscire in ogni momento ad esempio finito questo video ho intenzione visto che ho ancora un'ora di tempo di girare una pillola che sarebbe dovuto uscire per assurdo ieri e girarla farla probabilmente uscire o sabato o domenica quindi se volete non perdervele nessuna io ve lo dico non con piaggeria ma cliccate sulla campanella così almeno siete aggiornati ogni volta che esce un video poi se finito questo periodo non volete più essere aggiornati decliccate non mi faccio nessun problema a farlo la trovate vicino al tasto iscriviti io ripeto cercherò di continuare a raccontarvi delle piccole grandi curiosità storiche a metterci le immagini a metterci del lavoro perché è giusto che queste pillole mantengano comunque la qualità a cui seppur minima a cui ho cercato di di abituarvi ed è quello che voglio continuare a fare purtroppo il tempo è tiranno e non riuscirò a mantenere per un po la produzione che c'è stata fino adesso ma si spera che prima o poi come tutto passa anche questo periodo passerà e anche questa piccola inutile cosa che sono le pillole di storia tornino ad avere la loro scansione quindi io per l'ultima volta vi chiedo scusa perché comunque è giusto perché in questi tempi magari con la gente con voi che siete a casa avreste piacere di vederne qualcuno in più può essere magari una scusa per andare a recuperare quelle vecchie mi faccio così anche un pochettino di autopubblicità cercherò di tenervi un po di compagnia per voi perché spero di riuscire a divertirvi e far qualcosa ma anche per me perché ripeto per me preparare e girare queste pillole è un momento di divertimento un momento in cui mi rilasso è un momento molto molto piacevole quindi spero che questo momento piacevole per tutti noi possa continuare quindi ci vediamo domani o dopo domani con un'altra pillola l'ucronia non ve lo so dire quando riprenderà perché purtroppo tra tutti i video è quello che mi chiede più tempo perché ha necessità di una lunga fase di scrittura prima quindi devo fare ricerche sul periodo sui regnanti rileggere legge tutti i vostri commenti e quindi non so dire esattamente quando riuscirò a far uscire queste puntate l'ucronia uscirà comunque di venerdì non so se riuscirò tutti venerdì probabilmente possiamo pensarne uno ogni due venerdì non ve lo so dire non ve lo voglio promettere per quanto riguarda invece clash of general abbiamo ancora due puntate già registrate con giulio a cui devo aggiungere la mia parte domani non uscirà spero di riuscire a far uscire per sabato prossimo ma vediamo un attimino purtroppo il tempo è quello che è insomma la sintesi di questo video è continueranno uscire delle pillole ne usciranno poche la qualità cercherà di essere sempre quella usciranno quando quando potrò quindi se vorrete ancora seguirmi cercherò di fare ancora un prodotto che possa essere piacevole interessante e divertente per voi ma anche per me da fare tutto passa a presto ciao ciao